Scusatemi, è arrivato il momento, dovreste dividervi tutti da una parte e tutti dall'altra e permettervi di fare un altro trifo, con la classica pronuncia italiana. E' un vero cazzo, oh yeah, oh yeah, se andate all'ospedale il giorno non reggo con me. Con questo vi salutiamo, un applauso di Rocky Marquis, si è presentato sto scherzando, un applauso di che cazzo è, un applauso di Rocky Marquis! E' un applauso di Rocky Marquis! E' un applauso di Rocky Marquis. E' un applauso di Rocky Marquis, dovevi puoi sentirevi tutti da un'ap lasso di dolls. Arroca dei libri Marquis, e dei livelli, privi Marquis! Stai-ma. Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti Grazie a tutti